Musica Benvenuti a tutti quanti, anche i belli e i brutti in questa nuova asta Chissà oggi chi si aggiudicherà questa bellissima casa L'offerta di base di un diamante Io, io offro due diamanti E io offro cinque diamanti Offro cinquanta diamanti Io offro dieci milioni di dollari Oh mio Dio ma tu sei Emerald, screen Io offro dieci milioni di dollari Oh mio Dio Dieci milioni di dollari è uno È due È tre Ha giudicato al defici Al signor Emerald Adesso addio Ma quindi E vai abbiamo una nuova casa Andiamo subito a vederla E ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovissimo video Dopo un sacco di tempo Finalmente riporto un video Dove andremo a vedere insieme Una casa su Minecraft Purtroppo Non è una casa in Redstone Ma se questo video Supera i 1919 like Vi porterò nei prossimi giorni Un tour di una casa in Redstone Noi ragazzi Detto questo Mi invito come sempre Ad iscrivervi al canale Se non vi siete iscritti Attivate la campanellina E se ce l'avete fatto Vi direi che possiamo Iniziare Subito Def Con One Ed ecco Quella qui ragazzi Una casa Da 10 Milioni Di dollari O monete di Minecraft Minecraft non è una moneta Quindi facciamo finta che 10 milioni Di diamanti E sinceramente Spero che li valga tutti Quindi Io direi di iniziare subito Con il tour Di questa casa Ma una domanda Dove sta l'ingresso? E' questo qui l'ingresso? E si Qua c'è la stradina Comunque In descrizione Trovate Sì il download Della mappa E anche il download Della texture pack Che bisogna utilizzare In questa mappa Per avere un'esperienza Di gioco Migliore Quindi Seguiamo adesso qua Tutto questo percorso E vediamo Dove ci porta Ci porta in un punto Rumori inquietanti Naturalmente Non è una casa Mia Se non ha Un rumore inquietanti Credo che dovremmo salire Per questa Scalinata Anche se non mi piace Più di questa scalinata Cioè Dove sono i 10 milioni? Dove sono? Dove è il mio yacht? Non ci siamo Comunque Questo qui ragazzi Dovebbe essere L'ingresso Della casa E devo dirvi una cosa Sto extra pack di minecraft È bella Mi garba Allora Penso che questo qui ragazzi Sia l'ingresso principale Della nostra casetta Vediamo di qua Cosa abbiamo Beh Naturalmente Qui abbiamo Il nostro salottino Dove possiamo invitare Tutti i nostri amici Per far vedere La nostra casa Da 10 milioni Di diamanti Dollari Quello che è Abbiamo pure qua Un fuocherello Ti mi piace come è fatto Sto fuocherello Non ci ho mai pensato Carino carino mi piace Oddio queste luci tutte moderne È fighissimo come è fatto Mentre per di qua Cosa ci sarà Ma che cos'è questa cosa? Penso che sia tipo Una specie di Tipo una specie di Ristruttura Un'opera d'arte Che fa schifo Però Non lo so Forse un'opera d'arte astratta Dobbiamo capirla noi Visto da qui Assomiglia proprio A uno schifo È brutta Sì è molto brutta Però vabbè Tanto L'importante è che la casa Oddio Oddio che figato Che figato è questo Ora capisco Perché vale 10 milioni di dollari Perché abbiamo qui ragazzi Noi la visuale Del mondo Possiamo vedere Tutto il nostro pianeta Terra Dalla nostra casa A forse abbiamo un satellite Una telecamerina Che guarda il nostro mondo Non lo so Però siamo sott'acqua Tant'è che guardate Qui c'è l'acqua Ci sono proprio sott'acqua Fichissimo come cosa Bella bella questa cosa Ragazzi mi piace Quindi questo video Tipo una sala Di zona cinema Oppure una sala Relax Dove possiamo poter Rilassarci E vedere quello che vogliamo Qua abbiamo un tavolino E per di qua È troppo figa sta cosa Raga Cioè noi possiamo Noi stiamo andando in realtà Tutto quello che c'è sott'acqua Mi piace un casino l'effetto Poi guardate il vetro Cioè il vetro è praticamente Traspare Non si vede il vetro È invisibile E vediamo subito l'acqua È fighissimo Poi vabbè con la shade Sarà che sono tutti gli effetti Delle ondine così Cioè Ma di che stiamo parlando Continuiamo la nostra esplorazione Di questa mega casa Oddio Allora praticamente È una casa sopra un'isola Costruita Dentro l'isola Proprio Quindi abbiamo pezzi di isola Fighissimo Cioè questo qui potrebbe essere Tipo un nostro giardinetto Personale Dove possiamo trovare Mob Ho visto una mucca Abbiamo pure una mucca ragazzi Wow Facciamo un giro veloce Vediamo Entriamo per di qua Facciamo un giro molto A caso della casa A caso della casa Wow Allora Qui cosa abbiamo È un altro salottino E c'è una leva Che non fa nulla Mi piace però ragazzi Molto lo stile moderno Di questa casa Allora Ah questo qui deve essere Tipo una zona ristoro Ah Sì perché guardate Noi qua possiamo sederci E possiamo mangiare Bere quello che vogliamo Questo qui è un altro salottino E per di qua Cosa c'è? Questo qui è un bagno Bellissima la carta igienica Raga Poi questa qui È una doccia Ah ma non possiamo entrare Entra la doccia Ho rotto il bagno Della casa Da 10 milioni Di Euro Dollari Lire Pesos Non lo so Senti Questa è casa mia Ok Facciamoci adesso la doccia Se fosse fatto Con un minimo di redstone Sarebbe una casa fighissima Oh che bella questa camera da letto Bella moderna Le luci sono fighissime Raga Madonna che fighe Bellissimo 915 des Perché? Cosa vuol dire? Ma è dell'acqua questa? Oddio che figata Ma è geniale come cosa Ci sembra proprio Del vetro Che si muove un pochettino Ma sembra del vetro Una piccola tortina Mentre qui ragazzi Abbiamo una dispensa Dove abbiamo Nutella Tantissima nutella Lattine di bibita Non so Assomiglia forse Non tanto alla dr pepper Però mi piace E queste sono tipo Delle lattine normali Invece Non lo so E queste qui sono Delle lattine di bibita Questo qui invece Non so cosa possono essere Di qua invece Abbiamo la cucina Che figata Questi sono le fornacce Sono troppo fighe E di qua poi possiamo Uscire praticamente Siamo nel punto di prima Dove c'era il nostro giardinetto Questo qui invece Punto di partenza E ho notato pure una cosa Che oltre che qui c'è La scala per il secondo piano Perché naturalmente raga La casa è grande Cioè 10 milioni sono Di essere per forza grande Ho notato Che qua fuori Ecco Per di qua C'è pure un'altra scalinata Quindi andiamo intanto Per di qua E vediamo cosa c'è qua sopra Ma Mi hanno rubato delle scale Ed eccoci Piano di sopra Dove naturalmente Abbiamo un'altra sala Un'altra zona relax Qua ci sta tipo Un cammino In stile moderno Che abbiamo visto tempo fa In qualche caso Ora non mi ricordo quale Questo qui vabbè Sono le scalette Interne Per se le sopra C'è addirittura Un terzo piano Wow Vediamo E naturalmente Non può mancare Un pianoforte Come si deve Oddio che figata Ah è fatto con il Con il letto Fichissima Vabbè comunque qua ragazzi Abbiamo un bellissimo Pianoforte E per di qua Non può mancare Che è la nostra piscina All'aria aperta Cioè raga Ah Oddio Cioè noi possiamo Tuffarci Possiamo vedere L'interno della casa Da sotto Quindi Chi invece è dentro casa Può vederci a noi Nuttare dentro la piscina Di lusso Ma la nostra piscina Naturalmente Non può finire qui Perché Qua Ne abbiamo Ancora un'altra Che ci permette Di vedere Tutto il paesaggio Esterno Wow Questo qui Sono tipo Dei lettini Per prendere il sole Questo qui invece Dovrebbe essere Tipo Una zona di idromassaggio Soltanto di senza acqua E qui Cioè raga Abbiamo addirittura Una cascata Una cascata artificiale Fatta Da Questa qui E' un'altra piscina Praticamente Perché noi possiamo andare qua E puff Tuffarci Per di qua invece Dove si va Si va in questa zona Completamente al verde Quindi Completamente naturale Non c'è praticamente nulla Ah Invece si sa E dove ci porta questa scalinata All'intanto Là C'è il terzo piano Ma di qui Dove ci sta portando Ma è gigantesca Uh E qua che c'è Un piccolo campfire Una zona per fare un picnic Presumo E basta Cioè ho fatto Due chilometri a piedi Per questo qui Che è questa cosa Che cos'è Mentre per di qua E' strano sto posto Perché adesso E' meno curato Quindi penso che siamo In un'altra zona della casa Madonna che figli Siamo sto posto raga Porca pupazza Che figo Uh e cosa vedo qua sopra raga Qua c'è qualcosa di interessante Ah naturalmente Insieme alla casa Abbiamo anche una macchina Però cavolo Con dieci milioni E dammela Lamborghini Che cos'è questa cosa Ha pure una ruota Di un colore differente Golfaster Ecco Si è smontata la macchina L'ho rotta Non ci siamo Non ci siamo No 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 Bene direi che possiamo Tornare indietro Quindi ritorniamo Andiamo per di qua E andiamo a vedere L'ultima parte della casa Ovvero L'ala esterna Per di là E soprattutto Andiamo a vedere L'ultimo piano Allora questo qui E' il piano di prima E abbiamo Naturalmente un'armatura E grazie Grazie che mi dai Un'armatura in diamante Con tutto quello che costa Questa casa Ci credo Però noto una cosa In questa casa Ci sono poche camere da letto Ne ho vista una O forse due Non lo so E' abbastanza grande Ma camere da letto Forse sono l'ultimo piano Presumo Penso di sì Vediamo qui Oh questo qui Un altro bagno E questo è bello Qua c'è tipo Una zona per cambiarsi Sono delle ceste Queste Fichissime Qui c'è una bellissima doccia Ah un lavandino Perfetto Si mi sa che Qua c'è una camera da letto E wow Che cosa sono queste cose Ah sono tipo Delle sedie Questo qui E' tipo Una camera da letto Barra studio Dove abbiamo appunto Il nostro tavolinetto Dove possiamo fare Quello che vogliamo Interessante Interessante Vediamo se c'è ancora Un'altra camera da letto Ma penso proprio di sì Uh E questo qui cos'è Raga Abbiamo un maggiordomo Abbiamo qui Il nostro maggiordomo Che praticamente Ci ha riempito La casa di neve Questo qui Doverebbe essere Tipo un altro bagnetto E tu che fai Alfonso Alfredo Giacomino Dove stai andando Che fai Ma dove se ne va Oh Ma non andare Che ti sciogli E vabbè Guarda che capisco Perché c'è tutta la neve Incire Colpa del nostro maggiordomo Cioè praticamente Ci hanno venduto Insieme alla casa Anche il maggiordomo Vabbè Ok a posto Bene Andiamo in quest'ultima parte Allora qui cosa Ma è tutto con la neve Ma quindi non dovrebbe essere Questa casa con la neve È riempita con la neve Per colpa dei nostri Ma due maggiordomi Non è che vuoi uccidermi Vero Madonna È inquietantissimo Questa texture è inquietante Ho una lampada in testa Ma che cosa che c'ha Vediamo qui Abbiamo un altro salone Sì questo qui è un altro salone Oh che figata Sta sedia Abbiamo qui un'altra sedia Un altro divano Ed è qui ragazzi Possiamo vedere Tutto il panorama Che ci offre Questa casa Da 10 milioni Quindi ragazzi Questo video Finisce qui Speratissimo Vi sia piaciuto Se si fatelo sapere Con un pollicione in su E un commento Qua sotto Spero che questo piccolo Ritorno delle recensioni Delle case su minecraft Vi sia piaciuto Fatelo sapere Naturalmente qua sotto Nei commenti Passate anche in descrizione Perché ci sono tutti I link dei miei social Come instagram E telegram Mi raccomando Seguitemi su entrambi E naturalmente Iscrivetevi al canale Se non vi siete iscritti Volendo Priscrivi al canale Basca la volta Che sta cuocendo Nello schermo E se ce l'avete fatto Potete cliccare a sinistra A destra Per vedere Un altro mio video E ragazzi Per questa casa È tutto E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti